Ciao, oggi faremo un video bellissimo. Abbiamo finito il riscaldamento, la scioltezza e il potenziamento e ora ci mancano i salti in cerchio, salti stoppati. Facciamo il cerchio dei salti stoppati. Quando stoppate tutti, siamo pronte per gli attrezzi. Vai, cerchio! C'è anche la piccolina Bea oggi. Bea, stoppi? Sei sicura? Vai, parti tu allora! Stoppato! Martina! Peccato, si ricomincia il giro. Stoppato, Giadi! Stoppato! Emma! No, si ricomincia il giro. Ragazzi, dobbiamo fare allenamento, eh? Vai! Brava! Uno! 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 No, ci ricomincia! No, Leti! Bea! È la piccolina stoppa ancora! Marti! Peccato! Uno! Due! Tre! Brava! Brava! No, Emma! No, Emma! No! Emma! Cami! No! Leti! Bea! Uno! Dai! Dai! È il vostro piede! Quel piede! Quel piede! Uno! 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 Sì! 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 Marti, tutto sulle tue spalle! Sì! Sì! Bravissime! Ciao! Ciao! Sì!